Sono state emesse dal GIP del Tribunale di Pescara le misure catolare applicate nei confronti di cinque soggetti che avrebbero condotto attività di spaccio di marijuana e cocaina, occultando gli stupefacenti all'interno di casolari abbandonati e terreni incolti della provincia di Pescara. Gli arresti sono scattati alle prime ore dell'alba dopo un'attività di indagine iniziata nel mese di agosto 2021 e conclusasi nel mese di settembre 2022 portando al sequestro di circa 65 kg di marijuana e 2 kg di cocaina ed efferendo complessivamente l'autorità giudiziaria 12 soggetti, segnalando alla prefettura di Pescara due acquirenti. Dalle indagini di carabinieri della compagnia di Montesilvano, coadiuvati dai militari della compagnia carabinieri di Pescara, penne a tessa, è emerso che lo spaccio era gestito da cittadini di nazionalità albanese gravati da specifici precedenti e ben inseriti nel tessuto criminale del territorio di Montesilvano, città Sant'Angelo e Pescara, riuscendo con molta abilità a garantirsi un'elevata capacità di approvvigionamento sul territorio. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e all'esecuzione della misura catelaria odierna seguirà l'interrogatorio di garanzia e il confronto con la difesa degli indagati, la cui eventuale colpevolezza in ordine reati contestati dovrà essere accertata in sede di processo del contraddittorio tra le parti.